Ciao io sono Tommaso e oggi parliamo di Power Windows su DaVinci Resolve Cosa sono le Power Windows? Sono le maschere di DaVinci Resolve Praticamente grazie a queste maschere abbiamo la possibilità di fare una color correction e una color grading dedicata solo a quella parte dell'immagine che magari è più sovraesposta, è più sottoesposta oppure vogliamo colorare in maniera differente e abbiamo bisogno appunto di suddividere in qualche maniera la nostra immagine Diamo un'occhiata a DaVinci Resolve e vediamo come si fanno queste Power Windows Qui vedete un'immagine già terminata, magari andremo a cercare di recuperare e di ricreare questa immagine che stiamo vedendo Vi faccio vedere a schermo intero com'è e invece com'era prima della gradazione del colore Quindi ho ricreato un tramonto molto più spinto di quello che avevamo prima e ho dovuto farlo dividendo il cielo dall'acqua principalmente perché il problema della color in questa condizione qui era proprio questo Ok spostiamo momentaneamente queste e andiamo a collegare all'output questo La nostra clip è già leggermente corretta qui vedete Partiamo proprio da zero andiamo a resettare tutti i nodi e andiamo a normalizzare la nostra immagine quindi do su sugli alti e abbasso un po' gli scuri e alzo un po' i medi Partito da così arrivo più o meno a questa condizione qui Vorrei in questo caso andare a rendere più rosso questo tramonto Quindi la prima cosa da fare è creare un nuovo nodo Utilizzo alt S per creare un nuovo nodo Se non avete visto le shortcut ragazzi date un'occhiata agli altri video che trovate qui sopra perché su ogni video c'è una shortcut che magari vi descrivo Vi consiglio di farvi un bel foglietto con tutte le shortcut da seguire Seguitemi su tutti i vari video e magari se siete interessati qui sotto trovate anche la descrizione degli altri corsi che vado ad effettuare sul mio sito www.tomasocodolo.com Dicevamo creato un secondo nodo andremo a cercare di avvicinare il colore a un tramonto che ci piace particolarmente in questo caso proverei così a spostarmi sul colore rosso vedete tendo ad andare verso il rosso ma mi piace molto il colore che ottengo sul cielo mi piace molto meno il colore che ottengo sull'acqua perché si vede che è completamente finto quindi comando Z per tornare indietro e iniziamo a lavorare solo ed esclusivamente sul cielo apriamo le nostre power window si trovano qui sotto ed è questo pulsante qui vedete che qui sotto si aprono delle power window che sono il quadrato, il cerchio, rette, poligoni disegnabili o gradienti ci interessa un rettangolo per ora quindi recupero il mio rettangolo lo posiziono dove mi interessa lo prendo, lo allungo in questa maniera qui calcolate che quello che vedete qui è l'effetto che si otterrà all'interno l'effetto graduato che si andrà a spostare verso il basso in questo caso quindi diciamo la morbidezza con cui si sposterà il gradiente ci mettiamo in questa condizione qui e iniziamo a lavorare solo ed esclusivamente sui nostri colori caldi vedete che ora io cambio il colore della mia immagine ma viene graduata solamente l'immagine selezionata all'interno della mia power window posso andare ad esagerare drasticamente vado a tirare su anche un po' gli alti e già che ci sono dai esageriamo e portiamo su anche i bassi vedete che come era prima e come era dopo c'è un bel po' di differenza la stessa cosa voglio farla sulla mia sezione sottostante perché ovviamente il problema principale qual è? è che ci troviamo il cielo particolarmente rosa mentre i riflessi in acqua non ci sono neanche minimamente diamo un'occhiata a come è venuta la clip giusto per capire ci piace tra l'altro abbiamo anche la fortuna di avere l'orizzonte che sta sempre fermo perché altrimenti avremmo dovuto keyframeare la power window una cosa che ho insegnato in un altro tutorial che trovate qui sopra che è il keyframe nella sezione color una cosa molto semplice da fare però in questo caso non ci occorre andiamo a creare un altro nodo quindi alt s nuovamente e andiamo a lavorare nella parte invece che ci interessa sottostante quindi recupero la parte sottostante ok e la parte sottostante cercherei sì di farla diventare rosa ma senza esagerare perché comunque il blu deve assolutamente rimanere quindi tirerei a spostare molto meno le ruote di colore verso la direzione che ci interessa già così mi piace di più mi sembra più naturale di come l'avevamo fatto inizialmente dismetto un attimo la power window posso farlo pigiando off qui di modo che mi vada via momentaneamente la power window e posso vedere com'era prima e com'è diventato ora gestendo due power window vedo che qui si sono sormontati i colori in maniera abbastanza fastidiosa vedete quindi qui cercherò magari di ammorbidire le due power window riapro la mia power window da qui voglio andare su questa in questo caso e voglio andare a rimpicciolire un po' questa power window perché avevo raggiunto l'acqua effettivamente e la vado a togliere nuovamente per vedere se è migliorato decisamente migliorato in confronto a prima proverei anche per curiosità a buttarmi un po' sull'arancione con gli offset quindi con tutta la parte ok e anche sull'altra sull'altro nodo sul nodo terzo vado a tirarmi sugli offset ok perfetto vedete che eravamo messi in questa condizione qui siamo finiti in questa condizione qui grazie alle power window le power window possono essere fatte in più forme ad esempio se noi volessimo andare a vabbè in questo caso mi piace che ci sia la luce anche qui ma facciamo finta di voler togliere questa isoletta vado a ingrandire un po' la mia clip e vado a prendere la mia isola la vado a prendere con una power window che vado a disegnarmi io adesso la disegno alla meno peggio giusto per farvi vedere che cosa ho intenzione di creare più siete precisi ovviamente più riuscirete ad ottenere un prodotto qualitativamente alto adesso lo sto facendo un po' così ok in questo caso devo inserire anche un tracker per forza di cose quindi andrò a dirgli di tracciare la mia power window ok se non conoscete la sezione tracker sempre per le varie per i vari tutorial per i vari pillole che abbiamo fatto se è già uscito ci sarà qui sopra il video del tracker ma comunque all'interno del corso completo che trovate qui sotto in descrizione c'è una sezione dedicata al tracking di parecchi parecchi minuti solo ed esclusivamente per il tracking andiamo a togliere un po' questo effetto rossastro vedete che non sto lavorando sto lavorando solo sulla clip che è di mio interesse ok ritorniamo all'inizio ritorniamo con la clip delle dimensioni originali quindi fit to zoom togliamo la nostra il nostro qualifier e avremo la nostra clip perfettamente colorata come ci interessa ovviamente adesso qui vedete qualche errore dedicato al fatto che ci ho messo poco tempo per fare la maschera quindi avrei dovuto cercare di essere un po' più preciso nell'angolo ma si può sempre mettere a posto giusto per farvi vedere come sviluppare anche altre power window e abbiamo inserito appunto una power window due power window rettangolari e una power window invece manuale bene anche questo breve tutorial dedicato alle power window è terminato spero che vi sia piaciuto e che vi sia stato utile come tutti gli altri tutorial che trovate o qui sopra o qui sotto ricordatevi se vi è piaciuto il video di cliccare mi piace ricordatevi se non vi siete ancora iscritti a questo canale iscrivetevi immediatamente qui sotto c'è il pulsante iscriviti e a fianco c'è una campanellina da attivare per poter rimanere aggiornati su tutte le uscite dei miei prossimi video gli appuntamenti con me in questo canale sono il martedì per le live in cui rispondo alle vostre domande il mercoledì con le videoproduzioni e con le recensioni dei nuovi prodotti che mi arrivano e il giovedì con le pillole di Da Vinci Resolve a me non resta che salutarvi e dirvi che ci vediamo con il prossimo video ciao 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 a tutti ciao a tutti ciao a tutti